Sono tutti preoccupati per la saga di Campovalano della sua assenza? Io sono consigliere comunale e rimango consigliere comunale. Sono consigliere provinciale e rimango consigliere provinciale, quindi continuerò a lavorare per il mio territorio. Mi dispiace di questa decisione del sindaco di revocarmi le deleghe, ma rispetto la democrazia e quindi accetto quella che è una sua facoltà. Ovviamente sono molto dispiaciuto per i toni usati, perché credo siano veramente di basso livello. Non ci voglio scendere, darò le mie motivazioni, motiverò quelle che sono le spiegazioni che comunque darò con un comunicato stampa, ma sono sereno perché so di aver sempre lavorato per il bene di Campi. A Campi c'è una situazione particolare da un punto di vista di personale, perché abbiamo delle mancanze per quanto riguarda l'ufficio amministrativo. Io in particolare si fa difficoltà, tanti dipendenti si sono lamentati con me che sono assessore del ramo, perché non ce la fanno più. A questo punto quello che ho semplicemente fatto è parlare col dirigente per trovare una soluzione. Oltre che col dirigente ho scritto una lettera, ho segnalato quelle che erano le criticità che l'amministrazione andava ad affrontare da lì ai mesi successivi. E cercavo e chiedevo una programmazione del personale in maniera intelligente per cercare poi di non arrivare a quella che è la situazione attuale di oggi. Non ci sono stati momenti animati, diciamo? Ci sono state discussioni su questo tema perché io sono convinto che come si sta gestendo questa situazione del personale a Campi non è in linea con quella che è la mia idea di amministrare un comune. Quattro mesi non ho ricevuto comunque risposte, proprio c'è stato un lassismo che non ho condiviso e questo episodio sicuramente non va a scalfire minimamente il giudizio generale sull'operato. Quindi sono rammaricato sicuramente, è una cosa che avrei evitato piacevolmente, però nella vita politica c'è anche questo. Mi dispiace, saranno i cittadini di Campi a giudicare quello che io faccio per loro quotidianamente. E come mai ieri in circonvallazione Ragusa, in una sede di un ex assessore di Campi, attualmente capogruppo del Partito Democratico, c'è da Sandro Mariani felice di questa notizia? Io credo che non bisogna essere felici per Campi perché credo sia una pagina non positiva, quindi essere felici lo trovo esagerato. Da un punto di vista politico quando c'è un problema dall'altra parte comunque c'è una sorta di soddisfazione personale e non per il bene del territorio. Politicamente non farò nulla contro Campi, non l'ho mai fatto e mai lo farò. A Sandro Mariani cosa diciamo? A Sandro Mariani gli auguriamo buon lavoro.